Assalamu alaikum Judy Wa alaikum selam Gis Io non voglio essere una formica Perché dici questo Gis? Come perché Judy? Lavoriamo troppo e siamo quasi invisibili Soprattutto io Ah, adesso ho capito qual è il problema Non ti preoccupare Che ne dici se stasera andiamo dal nostro amico amichetto Gufo Saggetto Ok, va bene, verrò con te Eccomi qua Ciao Gufo Saggetto Ciao belle formiche Ciao Gufo Saggetto Caro amico, ti chiedo un favore Quale? Detemi tutto Potresti raccontare una storia per la nostra piccola Gis? Quale storia preferite? Magari quella della nostra bisnonna e il profeta Salomone, pace e preghiera su di lui Perché? Che cosa c'entra la nostra bisnonna con il profeta Salomone, pace e preghiera su di lui? Allora non lo sai? È una storia molto interessante Aprite le orecchie, chiare formiche Tanto tempo fa, c'era una volta, nella valle dove abitava il villaggio della vostra bisnonna Lavorava come guardia Un giorno toccò a lei fare la guardia al formicaio, mentre le altre raccoglievano il cibo Quindi la vostra saggia formica bisnonna sentì forti rumori e vide l'esercito del profeta Salomone che stava marciando L'esercito era immenso e minacciava di distruggere il suo formicaio L'esercito era formato da animali selvaggi, uomini, ingegni e uccelli La saggia formica si spaventò Andò subito ad avvisare il suo popolo Ma alcune formiche erano rimaste fuori Quindi decise di sacrificare la sua vita Uscì dal suo rifugio ed andò ad avvisare le altre Sapeva di avere poche probabilità di sopravvivere Mentre cercava le altre gridò O formiche, rientrate nelle vostre dimore Che non vi schiaccino inavvertitamente Salomone e le sue truppe Mentre lei chiamava il popolo a rientrare nelle proprie case Il profeta Salomone la sentì e sorrise E pregò e ringraziò Dio per avergli dato questo dono di riuscire a sentire gli animali Il profeta e le sue truppe invertirono la rotta E la valle delle formiche si salvò Il profeta Salomone, pace e preghiera su di lui Poteva riuscire a capire il linguaggio degli animali E gli animali lo capivano Per questo ringraziò Dio E ora, grazie alla vostra bisnonna Viviamo ancora in questa bellissima valle delle formiche E anche grazie al suo coraggio Ora tutte le formiche che erano rimaste fuori Sono finalmente salve Gis, hai visto quanto sono importanti le formiche? E inoltre c'è una sura nel Corano che è dedicata proprio a noi Mi potresti dire quello che hai imparato da questa storia, Gis? Adesso ti dico tutte le virtù che ho imparato Ad avere coraggio Ad essere responsabili Ad essere sempre grati a ciò che ci dà Dio Ad essere misericordiosi con tutti Soprattutto con i più piccoli E sono orgogliosa tantissimo di essere una formica E soprattutto orgogliosa della mia bisnonna Cari amiche Vi è piaciuto la storia? Ciao! Voglio tanto bene Ci vediamo la prossima volta